Fontana buona in crisi, chiudono le aziende, fuggono i giovani, il nostro reportage oggi ci porta a Cicagna, le difficoltà più grandi, viabilità difficile, lavoro assente, internet poco efficiente. Decima Expo dell'Alta Valtrebbia, domani alle 15 il taglio del nastro in diretta su Telepace, per tre giorni visite agli stand e al territorio, la manifestazione frutto dell'impegno di un gruppo di volontari. Numero speciale di richiami, la rivista parrocchiale di Ribasso a Chiavari, un'edizione storica per ricordare gli anniversari della comunità, i fedeli si preparano alla festa di Nostra Signora della Salute. Amicizia, stare insieme, battesimo, sono i temi del campo estivo delle elementari di San Giovanni Battista Giaiette e di Rupinaro a Montemoggio, questa sera nuova puntata di Estate Giovani. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13, ci prosegue il nostro reportage in Val Fontanabuona alla ricerca dei motivi della crisi commerciale e dello spopolamento. Oggi andiamo nella zona di Cicagna e di Monleone, la situazione è difficile con tante attività chiuse e poche speranze di ripresa, a dirlo i titolari delle poche attività rimaste. Sentiamo. Non abbiamo toccato al fondo ma ci siamo, quasi. Anche a Cicagna si sente la crisi forse più che in altre zone della valle. L'impressione registrata dai commercianti della zona è che dopo il crollo del settore ardesiaco ci siano stati scarsi tentativi di rinnovare il settore. Così poche persone oggi investono in Fontanabuona, pochi quelli che la visitano, il lavoro si è perso, i giovani se ne vanno. Le vendite online hanno poi sottratto un altro 30% della clientela. Noi eravamo in cinque a servire una volta, ora ci sono io, una dipendente per dire, tra l'altro part time sia io che lei. È cambiato la capacità di spesa, non è più come una volta, la gente compra online, la gente di Genova non viene più su perché non ha più niente. Le trattorie le puoi contare su le punta delle dita, non ce n'è. Negozi aperti alla domenica ci sono io, la franchezza, una gelateria Fontanabuona e poi non c'è altro di aperto. E cosa ci viene a fare in Fontanabuona? Anche per via dei trasporti difficoltosi, raggiungere le autostrade è sempre più difficoltoso, per camion, tir, il traforo. Io vorrei che ci fosse da una vita, ne ho sempre sentito parlare. Non solo la viabilità rappresenta un nodo cruciale per la Fontanabuona, anche la rete internet non troppo funzionante sembra ostacolare la ripresa della valle. Qua non c'è nessun tipo di segnale, poca, niente, dipende dalla zona e questa qua soprattutto è una zona che manca molto. Quello sentendo anche alcuni clienti che hanno fabbriche, dite così, è una mancanza. Negli ultimi anni qualcuno ha deciso di provare ad aprire nuove attività nella zona di Cicagna e Monleone. A altri, soprattutto i negozi storici, provano a resistere ma la situazione è davvero complicata. Sono venuto a vedere la zona, ho visto che poteva mancare un certo tipo di locale e ho provato. E nel mio piccolo non mi lamento, nel senso riesco a lavorare abbastanza bene, anche se i tempi sono quelli che sono. Insomma, stanno chiudendo in tanti e noi ci siamo rimasti, boh, fino a quanto si vedrà. La situazione è brutta perché appunto qui a Monleone ha chiuso anche la banca, chiude un mobilificio, ai negozi elementari ce n'è più uno, poi c'è una rosticeria, non c'è quasi più niente. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno individuato l'autore del furto compiuto la scorsa notte nelle opere parrocchiali cittadine. L'uomo è stato trovato in città, si tratta di un italiano ma non è un residente sanmargheritese. È stato riconosciuto grazie alle immagini della videosorveglianza. Il ladro infatti, nel tentativo di non farsi riprendere dal circuito interno, è salito su una sedia per oscurare la telecamera, riuscendo invece a farsi inquadrare in primo piano. Al momento del ritrovamento l'uomo non aveva con sé la refurtiva, circa 800 euro in monete raccolte durante la festa patronale. Cambiamo tema, è scattato il conto alla rovescia in vista dell'inaugurazione della decima expo dell'Alta Val Trebbia. Domani alle ore 15 nell'area espositiva del Bosco di Giaia a Rovegno, il taglio del nastro della manifestazione. L'evento sarà in diretta su Telepace 1. Sentiamo. Come è nata l'idea di fare un expo in questa valle, in questa zona? Forse uno potrebbe pensare per invidia della Fontana Buona, dove abbiamo fatto un expo veramente eccezionale. Noi sentivamo il desiderio come comune, con un mio assessore, che è Vigo Sandro, allora, dieci anni fa, anzi undici anni fa, di fare anche noi qualcosa che potesse dare risato a quella che è la cultura, a quella che è, diciamo, quali sono i prodotti dalla nostra valle, la valle più verde del mondo, come diceva Imingway. E così abbiamo cominciato a pensarci, ripensarci e abbiamo trovato un giovane, che ancora, peraltro giovane, ma comunque lui era ancora di più dieci anni fa, che ha cominciato a raccogliere altri giovani e hanno messo su, i giovani della frazione di Loco, dieci anni fa, questa manifestazione. E ne andiamo molto orgogliosi. Siamo molto legati a loro, perché loro sono di tutti i volontari che prestano in questi giorni un servizio incredibile, un lavoro pesante, proprio perché questa manifestazione continua. Quanti comuni raccoglie l'Alta Valtrebia? L'Alta Valtrebia sono sette comuni, possiamo passare anche otto, considerando che parte nell'Alta Valtrebia, fa parte anche Torriglia, ma sono sette piccoli comuni. Il Rovigno forse è ancora il più grosso, però sono tutti comuni che vivono di quello che è poi fondamentalmente il turismo. Che importanza hanno manifestazione come l'Expo che sta per iniziare? L'importanza dell'Expo che sta per iniziare ha l'importanza di far conoscere alle persone che magari in questo momento mi stanno ascoltando di venire su e vedere la Valtrebia, non soltanto i prodotti che vengono presentati, ma vedere questa bellezza della natura che è stata tanto decantata da tante persone che sono venute, anche poeti famosi come Giorgio Caproni. Allora invitiamo tutti in Valtrebia questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Sì, venerdì alle 15 ci sarà l'inaugurazione e mi auguro comunque che sarà anche presente Telepace per fare tutta questa trasmissione anche in diretta, è questo per noi un grande vanto, un grande onore. E poi ci sarà sabato e domenica tante manifestazioni. Sono tutte cose interessanti e ci saranno poi soprattutto quelli che presenteranno anche il campionato mondiale del canestrello. È mica poco, anche se noi a Rovigno abbiamo il quadrello. La ripresa dell'inaugurazione dell'Expo dell'Alta Valtrebbia sarà poi riproposta in replica alle 20.50 su Telepace 2 al canale 85, domani sera e anche sabato mattina alle ore 10, questa volta su Telepace 1 al canale 15. I carabinieri di Lavagna hanno denunciato per truffa un pregiudicato calabrese di 30 anni residente in provincia di Torino. L'uomo ha acquistato online un telefono cellulare comprandolo da un operaio di Lavagna. Tuttavia, dopo aver versato l'anticipo e aver ricevuto lo smartphone del valore di 350 euro, non ha mai saldato la somma rimanente. I militari di Sesti Levante invece hanno denunciato per lesioni personali stradali gravi. Uno studente di 17 anni di Casarza Ligure, tre giorni fa il giovane, mentre si trovava alla guida del suo motociclo, ha provocato un incidente in centro a Sesti Levante procurando ferite gravi ad un 46enne del posto che tuttora si trova ricoverato a Genova. Siamo all'informazione religiosa, veniamo in diocesi. La comunità di San Giuseppe dei Piani di Ri, a Chiavari, si prepara a festeggiare Nostra Signora della Salute. Oggi alle 17 un momento speciale con gli anziani e gli ammalati nel salone parrocchiale. Domani alle 18 l'offerta dei fiori alla Madonna e la benedizione dei bambini. Domenica alle 11 del mattino la messa solenne celebrata da Don Piercarlo Fizzotti, prevosto di Gaggiano in Lombardia. Alle 20 e 30 i Vespri e la processione. Per la festa di quest'anno è stata pubblicata un'edizione speciale del giornalino parrocchiale Richiami. Sentiamo il perché. Edizione straordinaria quest'anno di Richiami, la rivista parrocchiale di Ribasso. Come mai questa scelta? Quest'anno stiamo festeggiando parecchi anniversali legati alla parrocchia. Sono i 60 anni dell'inaugurazione della Chiesa, il primo maggio del 1958, l'apertura al culto, la parte sopra. Inoltre, 30 anni fa, il 4 giugno dell'88, c'è stata anche l'inaugurazione del nuovo altare. Poi è stata, 10 anni fa, l'inaugurazione del nuovo ascensore, che dà la possibilità anche alle persone che hanno problemi di disabilità, o comunque anziani o altre persone, di poter accedere liberamente alla Chiesa. C'è un anniversario che riguarda anche la stessa rivista, Richiami? 35 anni fa, esattamente a dicembre del 1983, nasce il primo numero del Richiamo, che all'inizio era la rappresentazione dei gruppi parrocchiali. Col tempo poi è diventato proprio l'orgono ufficiale della parrocchia di Ri. Che storia ha avuto questa rivista? È stata pensata soprattutto dei gruppi giovanili, era tutto ciclostilato, usciva ogni circa tre mesi, poi col tempo siamo passati le fotocopie ed è sempre rimasta questa voce aperta a tutti. Con la venuta di Don Mario, paroco Don Mario Moltedo, questa rivista è diventata la rivista ufficiale, cioè ci sono tutti i contenuti ufficiali della parrocchia e tutti gli avvenimenti. In questa edizione straordinaria quante coppie avete fatto? Circa mille perché c'è la festa di Nostra Signora della Salute e di conseguenza abbiamo fatto questa coppiata, la possibilità di dare un numero speciale, io direi anche storico, alle famiglie di Ri e chi vorrà per tenerlo in casa. Le offerte andranno a chi? Naturalmente sono tutte per la Chiesa. Ricordiamo anche che domani e sabato a Ribasso andrà in scena la festa in piazza, due serate dedicate a cibo, musica e danze, l'apertura degli stand gastronomici alle 19.30, la musica a partire dalle 21.30. Oggi è la festa dei Santi Gioacchino e Anna, la festa degli anziani e a Rapallo nella Chiesa di Sant'Anna, il Vescovo alle 17.30 presiederà la Messa. Al termine sarà Benedetto il Sagrato che avrà come denominazione toponomastica Piazzale Sant'Anna. Alle 21 invece si snoderà dall'antica chiesetta la processione che sarà presieduta da Monsignor Alberto Maria Careggio, Vescovo emerito di Ventimiglia Sanremo. Antico incanto è il titolo della serata in programma alla Chiesa di San Nicolò dell'Isola di Sestri Levante, sabato 28 luglio alle 21, suggestioni musicali con il gruppo polifonico Concentus Bracelli di Genova. Oltre al concerto si potrà anche conoscere la storia dello storico monumento con le spiegazioni di Alberto Fazzeri. Sarà anche l'occasione per conoscere i progetti di restauro della Chiesa di cui si stanno cercando i fondi necessari per poter partire. Ora spazio all'economia come di consueto. Il giovedì nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto con le regole attuative del cosiddetto bonus pubblicità. Si tratta degli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari fatti su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Recentemente è stato esteso anche alle testate online. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 8 di agosto. Ma vediamo la scheda. A beneficiare del bonus pubblicità saranno imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, ma anche enti non commerciali. Saranno agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1 gennaio 2018. Il valore deve superare di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Sono agevolabili anche gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% la montare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione, ma nel 2016. La misura dell'agevolazione sarà del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria. La tipologia di agevolazione riguarda il credito d'imposta, utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al credito d'imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1 al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare una comunicazione telematica. Per il 2018 la comunicazione deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno e dentro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018, data di pubblicazione del decreto. Per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre dello scorso anno, la comunicazione va effettuata in modo separato. La compagnia teatrale dei Senza Pretese di Sestri Levante propone un nuovo appuntamento per sabato 28 luglio. Alle ore 21 al Teatro Caritas di Via Marana a Chiavari sarà proposta la commedia in dialetto genovese, Gaveau in Prode Fantasia. Sarà una serata speciale perché le offerte raccolte saranno devolute a sostegno di Tele Radio Pace. Dunque un grazie agli attori che da tempo si stanno preparando alla messa in scena di questa commedia con un pensiero alla nostra emittente. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le altre notizie e i servizi. Avvenire titola, ma nessun uomo è mai un parassita. Salvini contro i Rom, il ministro annuncia stretta sulla protezione umanitaria e mette nel mirino i nomadi dopo il caso Roma. In 30.000 vivono nell'illegalità. Il presidente Mattarella dice no a veleni razziali. Politica, Tria ripensa alle famiglie e poi via i vertici delle ferrovie dello Stato annullato il Consiglio di amministrazione. Un lago su Marte, una scoperta italiana, acqua liquida sotto la crosta di ghiaccio del pianeta Marte. FCA, addio a Marchione, nuova era subito in salita. L'addio all'amministratore delegato della Fiat e poi FCA. E anche il titolo di prima pagina del secolo XIX, il manager italiano delle missioni impossibili. È morto ieri a 66 anni a Zurigo. Il presidente Mattarella, la sua visione oltre l'orizzonte, il dolore di John Elkan, presidente di FCA. Un uomo straordinario ha o perso un amico. La vicenda Ilva, Di Maio in frenata sulla gara ad annullare, ci sarebbe un rischio ricorso di Mittal. A governo l'autunno sarà caldo, Tria incomunicabilità. E poi alghe spiaggiate. Se è richiesta giudizio, Chiavari sotto accuso di imprenditori e funzionali del Comune. Vediamo appunto nelle pagine del Levante. Per il caso alghe spiaggiate, se è richiesta di rinvia giudizio, udienza preliminare il 17 di ottobre per tre imprenditori e tre funzionali del Comune che sottostimarono i costi che salirono da un preventivo di 42.000 euro a 366.866 euro, da 250 tonnellate a 2.182,80 tonnellate. Dopo le indagini della Guardia di Finanza, il GIP riporta incontri privati, regali, gite e cene. Siamo nell'entroterra, rilancio della Val Fontana Buona, vino, nocciole, gelso e la mucca cabannina. Presentati i lavori degli studenti di architettura del paesaggio, progetti concreti, il plauso della platea di amministratori. E adesso la linea passa a Genova per sentire quali sono gli articoli presenti questa settimana sul cittadino. Nel cittadino di questa settimana, l'eucarestia sorgente di vita cristiana. In cantiere, il sussidio per il cammino catechetico degli adulti nell'anno pastorale 2018-2019. Catechesi in continuità con il congresso caristico nazionale di Genova. Calendario anno pastorale. L'elenco delle iniziative riportate su questo numero è visibile anche sul sito dell'Arcidiocesi www.chiesadigenova.it e sul sito del cittadino www.elcittadino.g.it I Viescovi italiani per i migranti. Come pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade, non intendiamo però né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Avviso a lettori abbonati. Questo numero del cittadino è l'ultimo che giunge prima della pausa estiva. Il primo numero dopo l'estate viene preparato in redazione lunedì 3 settembre. Con la presente auguriamo delle felici e spensierate vacanze. Per altre notizie all'interno del giornale visitate il nostro sito www.elcittadino.g.it. Grazie. Siamo alla nostra programmazione e prosegue il nostro viaggio tra i ragazzi che dedicano una parte delle loro vacanze ai campi estivi parrocchiali. Questa settimana la rubrica Estate Giovani ci farà incontrare i ragazzi delle scuole elementari di San Giovanni Battista a Giaiette e quelli delle elementari di Rupinaro a Montemoggio. Ne vediamo un'anticipazione. Estate Giovani ci porta Giaiette dove c'è il campo dei ragazzi di San Giovanni. Andiamo a vedere. Il tema del campo è M'Illumino d'Immenso. Questo campo è per i bambini di quinta elementare quindi si è pensato insieme a Don Paolo e agli animatori di fare il tema della comunità dei discepoli dei figli della luce e quindi abbiamo ripreso un po' il tema del battesimo. È un'esperienza di vita forte, intensa. Questi ragazzi sono ragazzi pieni di vita, di energia ed è stato facile coinvolgerli in tutto quello che gli si è proposto. Cosa c'è di così divertente ai campi? C'è il gioco, i momenti di gioco e anche di stare insieme e di parlare. Sono i ragazzi della prima confessione, della prima comunione nel loro cammino di formazione e allora vivere il tema della comunione, vivere il senso dell'essere amici tra di loro fondati su un'amicizia più grande che è quella che Dio ci ha regalato in Gesù. Quali aspetti dell'amicizia vengono comunque approfonditi nel campo? Non dire bugie, amarsi tra di loro perché l'amicizia è amore, verità. Dopo ogni incontro si fa un gioco e poi questi insegnamenti vengono messi in pratica. Se lo facciamo con gli amici è più facile perché decidiamo i compiti e un gruppo fa quello e un gruppo fa l'altro e quindi diventa più facile. La puntata di estate giovani va in onda questa sera a partire dalle 21.10 sul canale 15 di Telepace. E restiamo in tema perché oggi a Chiavari si svolgerà il primo torneo dell'amicizia. L'appuntamento è alle 18 al campo sportivo della scuola Maria Luigia. In campo i bambini nati nel 2008. L'obiettivo è naturalmente quello di farli giocare ma anche divertire senza metterli in competizione. Al termine ci sarà la premiazione, saranno consegnate delle medaglie con la scritta L'amicizia resta un grande dono. L'idea è venuta ad un papà di questi ragazzini, Massimo Pilato, che ha poi incontrato il parere favorevole di tanti altri genitori. Tutti naturalmente possono andare ad assistere. Novità di pagina amministrativa dalla redazione dove è pronta Francesca Caporello. A te Francesca. Sì, grazie Maurizio. Buongiorno a tutti. Il sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro, rende nota la convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e di urgenza, programmata per il giorno venerdì 27 luglio domani, alle 20, presso l'apposita sala della palestra comunale di Leivi. Si tratta di un Consiglio Comunale importante perché varrà del futuro di Leivi. Infatti si parlerà appunto di che cosa accadrà, di che cosa appunto succederà. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Bene, grazie. Altri aggiornamenti sul nostro sito www.teleradiopace.com e noi con l'informazione ci ritroviamo questa sera alle 19.15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. 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 Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.